nuovo appuntamento con lo speciale amministrative in questa puntata vi portiamo in valpolicella nel comune di fumane poco più di 4.000 abitanti una meta sicuramente gettonatissima per appassionati di storia di natura ma anche un territorio in cui vale la pena fare un pensiero per andarci a vivere perché effettivamente ha tantissime qualità ma anche delle progettualità importanti ne parliamo oggi con l'attuale sindaco che si propone per il secondo mandato daniele zivelonghi oggi qui negli studi di verona network in collaborazione con il giornale ladige benvenuto quindi zivelonghi per questo momento di conoscenza per chi ci sta seguendo e presentarla sia dal punto di vista diciamo personale ma soprattutto politico per capire cosa è stato fatto in questo primo mandato e cosa c'è nella programmazione per un eventuale prossimo allora ricordiamo qualcosina di lei quindi coniugato con chiara due figlie di 6 8 anni lei è avvocato come attività professionale e sindaco insomma pensa di essere riuscito a coniugare bene in questo primo mandato i due impegni grazie mille dell'invito e ben trovati a tutti gli ascoltatori io spero di sì confido di sì non è facile coniugare un'attività professionale con l'impegno da sindaco perché l'impegno da sindaco è abbastanza totalizzante credo di sì anche grazie ai miei collaboratori in studio e anche grazie alla squadra amministrativa che mi ha supportato e aiutato molto in questi cinque anni per cui ecco da una da una parte anche dall'altra ho trovato un buonissimo un grandissimo appoggio devo essere grato veramente a tutti chi si presenta in lista con lei com'è la sua squadra ora noi usciamo da cinque anni di amministrazione e degli otto consiglieri che abbiamo attualmente in carica in maggioranza cinque di questi si ricandidano e poi ci sono io naturalmente che fa il sesto e si ricandidano il vice sindaco giuseppe bonazzi diego bianchi diego tommasi si ricandida emily franceschetti neomamma si ricandida tommaso guglielmi e non so che ho dimenticato forse qualcuno dei dei si ricandidano dico tommasi l'ho detto si ricandidano cinque di consiglieri e sei di nuovi per dar modo alla lista di portare avanti l'esperienza perché amministrare difficile e fare esperienza è molto utile per poter andare avanti e sei di nuovi perché è anche importante l'apporto di nuove idee così emilio ceradini francesco righetti francesco cottini maria elena padovani maria vittoria scamperle e elena mutinelli se li sta ricordando tutti a memoria e quindi questo insomma gli fa onore perché non ha nessun foglio e quindi è assolutamente chiaro chi sono le persone su cui lei punta ricordiamo un attimo nel suo percorso politico amministrativo lei dicevamo è attuale sindaco però ha vissuto diciamo entrambi le sfonde minoranza maggioranza sempre nel comune di fumane è stato membro della commissione edilizia e coordinatore provinciale di avviso pubblico 2020 che cos'è esattamente avviso pubblico lo spieghiamo avviso pubblico è un'associazione fra enti locali che non ha colore politico e che punta a far crescere la sensibilità contro le mafie ma le illegalità in generale amministrando anche amministrando comuni piccoli a volte l'illegalità è latente perché come dicevano i grandi i grandi combattenti i grandi eroi antimafia sembra uno slogan però vale la pena ricordarlo Falcone Borsellino Levattino tutti tutti i magistrati che hanno combattuto ma tutte le persone che hanno dato una mano contro la mafia la mafia l'illegalità non è che a Verona sia ci siano infiltrazioni mafiose a Verona c'è la mafia in Veneto ci sono stati istruttori per sciogliere delle amministrazioni pubbliche per infiltrazioni mafiose per cui il problema c'è e bisogna parlarne parlarne per conoscerlo perché solo conoscendolo si combatte l'avviso pubblico si prefigge questa questo questo fino a questa questa finalità è un'associazione nazionale io sono il coordinatore per Verona ecco che esce la sua anima d'avvocato anche ci tengo ci tengo proprio verso verso l'obiettivo senza sbavature ecco senta i temi caldi di Fumane noi nella scheda di presentazione chiediamo sempre ai candidati insomma di darci qualche cenno lei dice che non ci sono tematiche calde particolari però ci sono delle programmazioni che è giusto insomma mettere in chiaro il primo possibile sì a Fumane come come ha ricordato all'inizio e anzi ringrazio per la bella sponsorizzazione del territorio le attrazioni sono più di una il territorio è ricco anche di attività e purtroppo abbiamo avuto in questi cinque anni che sono stati complicati perché due anni sono stati rubati dal covid chi dice non è vero si poteva fare mente mente sapendo di mentire perché due anni sono stati rubati a tutti in questa ultima tornata elettorale e abbiamo ereditato nel comune di Fumane una situazione gravemente lacunosa dal punto di vista degli uffici non avevamo un ufficio tecnico non avevamo un segretario comunale e la ragioneria è stata via via decurtata di risorse umane per i pensionamenti però abbiamo fatto fronte a tutto questo che ci ha permesso di programmare solo a fine mandato perché a Fumane la priorità è trovare posti di aggregazione per i giovani e per gli anziani la pulizia e il decoro del paese cose che siamo riusciti a programmare solo verso la fine del mandato quando avevamo la funzionalità completa dell'ufficio tecnico ma nel frattempo non siamo stati fermi perché abbiamo vinto un PNRR per fare l'asino nido abbiamo creato una rotatoria per la per la sicurezza stradale abbiamo fatto la restrutturazione della scuola di Breonio abbiamo realizzato il fotovoltaico sull'isola ecologica abbiamo fatto una serie di interventi per l'efficientamento energetico quindi cambiando l'illuminazione pubblica rendendola tutta a led appunto per efficientare il risparmio energetico abbiamo cambiato la caldaia del comune e della scuola la scuola fra l'altro c'è scoppiata la caldaia un venerdì e entro il mercoledì successivo siamo riusciti a metterla a posto siamo dati molto da fare purtroppo questo lavoro molte volte è un lavoro che non si vede perché assumere personale che non si ha l'ufficio tecnico aveva una risorsa una risorsa operativa a otto ore settimana ora ce ne sono tre risorse operative e i tempi di risposta per cdu per esempio e pratiche edilizie sono perfettamente dentro i tempi amministrativi le sfide quali sono quindi creare aggregazione mantenere i paesi puliti l'area del cementificio ex cementificio che è attualmente privata 70.000 metri quadrati da in qualche modo coniugare con le esigenze pubbliche l'attenzione sarà principalmente a questo e senza dimenticare alcuni progetti che sono già partiti che sono la video sorveglianza ad aumentare e attenzione ai percorsi sostenibili ciclabili e dedicati alle persone con disabilità e andiamo proprio sul tessuto sociale di fumane anche per quanto riguarda per esempio il volontariato che cosa presenta questo territorio lei per esempio è molto attivo nelle attività delle pro loco che cos'è che si fa già a fumane che cosa si può migliorare a fumane è fervida la vita delle associazioni se ne contano circa una cinquantina e che cosa si fa si si spazia dalle associazioni più votate alla sociale alle associazioni di promozione alle associazioni sportive le pro loco dove io principalmente mi spendo o meglio devo dire mi spendevo prima di essere sindaco mi spendo per quel che posso ora che 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 mi dedico anche all'attività amministrativa sono tre la pro loco di breonio la pro loco di molina e la neonata pro loco di fumane si dedicano tutte e tre alla sponsorizzazione del territorio all'organizzazione di eventi e anche a far da collettore fra le varie altre associazioni per fare in modo che le cittadinanze attive riescano a per esempio organizzare giornate ecologiche piuttosto che a raccogliere fondi ricordo a fumane ha raccolto tantissimi fondi quando c'è stato l'esigenza il problema dell'ucraina la guerra dell'ucraina scoppiata la guerra in ucraina e quindi dare una mano ai profughi ma in generale a fumane la socialità e l'attenzione a chi ha più bisogno è sempre molto molto alta come sta vivendo questa campagna elettorale è stato più facile essere eletto il primo mandato o essere riconfermato e che cosa pensa anche della candidatura di Emma Ugolini allora io mi sono candidato cinque anni fa per poter dare al comune un'amministrazione che fosse l'amministrazione di tutti un contenitore dar voce a tutti ora dar voce a tutti non è sinonimo di dare risposte a tutti e dico anche purtroppo è forse più difficile questa volta perché le promesse fatte cinque anni fa sono state esaudite sono molte alcune devono ancora essere esaudite anche se magari i processi sono già iniziati però è pur vero che la gente legittimamente vede il pezzo che manca e quindi il fatto che non si sia potuto fare ad esempio le pulizie delle strade non è che non si sia voluto farlo ma se mancava l'ufficio tecnico bisognava assumere l'ufficio tecnico per poter dare appalti di pulizia che cosa penso della della candidatura di Emma Ugolini io trovo che sia corretto che in un che in un contesto ci siano alternative non non mi piace della campagna elettorale che vengano date informazioni sbagliate per esempio vuole togliersi qualche sassolino grazie per esempio quando si dice l'asilo nido andava fatto ma non va fatto non andava fatto lì dove l'abbiamo previsto perché sono state proposte delle altre alternative si poteva fare da altre parti non è così semplicemente non è così aritmeticamente perché i tempi del pnrr e chi lo conosce lo sa imponevano delle scelte entro certe date e a far arrivare un milione di euro gratis al comune di fumane non è stato facile e noi siamo uno fra i pochissimi comuni sotto i 5 mila abitanti che ce l'ha fatta abbiamo tentato di usare quei fondi per sussurrare l'asilo nido esistente ma non è stato possibile perché oltre al pnrr sarebbe servito innestare lì un altro milione di euro che il comune di fumane non ha quindi il milione di euro che arrivava dal pnrr abbiamo chiesto di poterlo usare per fare un nuovo asilo nido e l'alternativa era c'è stato detto di sì l'alternativa era sì entro il termine originariamente previssato quindi o si sfruttava quel milione di euro lì che era l'unico posto lì dovevamo previsto su via carcirago che è l'unico posto edificabile oppure tutte le altre alternative non avrebbero rispettato i tempi del pnrr per cui diventava o così o rinunciare al pnrr onestamente per la mia comunità non mi sono sentito e mi sono confrontato con i player dell'asilo nido cioè i genitori di bambini piccoli piccolissimi o neocoppie e tutti mi hanno dato nulla osta per poter andare avanti così abbiamo fatto l'asilo nido dovrà essere realizzato entro il 2026 ritengo appunto che non capiterà mai più nei prossimi anni all'orizzonte di avere un milione di euro di finanziamento quando sento dire ma non è così bisognava coinvolgere non è stato fatto ecco questo un po mi spiace perché va bene tutta la campagna elettorale però non si possono dare informazioni sbagliate io ritengo che sia doveroso offrire delle alternative che siano delle alternativi percorribili non alternative sogni questo caso lei parla anche da padre viola lì ci hanno otto e sei anni erano molto piccole quando lei ha iniziato anche questo percorso amministrativo ecco come vive lei il suo territorio è dove nato dove io sono di crescere e diventare adulto lì sì sì io sono nato e cresciuto a gorgusello che è una frazioncina fra molina e breonio quindi montagna e dopo che mi sono sposato ho vissuto per qualche mese a verona per poi ritrasferirmi a fumane nel capoluogo è una comunità che conosco fatto le scuole elementari e medie nel comune di fumane conosco perché ho giocato a calcio ho vissuto il paese e sì conterei di rimanere lì perché è un posto della valpolicella che trovo bellissimo tra la campagna e la montagna insomma il luogo sicuramente a dicevamo gettonato anche per chi l'ha vista ricordiamo le cascate di molina che sono le cascate di molina la grotta di fumane la biodiversità il parco della valpolicella il tutti i tutti i percorsi pedonali che abbiamo appena mappato e ciclabili naturalistici lasciamo perdere il mondo del vino perché non vorrei nemmeno parla da solo il territorio è inserito nella valpolicella che è un contesto altrettanto bello abbiamo fatto l'iter per cambiare il nome da fumane in fumane di valpolicella cosa ha significato ha significato dare un valore geografico al nostro comune che non è alcuni l'hanno letto come un assist al vino ma il vino non ha bisogno di nessun assist perché il vino valpolicella anche quello di fumane si vende da solo mentre per la recettività e il turismo il suffisso valpolicella da una connotazione spendibile un brand di facile utilizzo riconoscibile a livello mondiale che non porterà altro che vantaggi anche per le proprietà immobiliari del di fumane di valpolicella zivelonghi nell'ultimo minuto che le rimane il primo punto su cui lei si metterà al lavoro nel momento in cui sarà rieletto sindaco io ho fatto questa promessa quindi non è una cosa che è che che invento ora ha fatto questa promessa avendo corazzato l'ufficio e il che il comune per poterlo fare ci dedicheremo subito alla pulizia alla videosorveglianza e alla creazione di spazi di aggregazione per giovani e meno giovani in brevissimi tempi questo in questo in brevissimi tempi perfetto e daniele zivelonghi per il comune di fumane l'abbiamo conosciuto lo ringraziamo per essere stato qui nei nostri studi e noi ci ritroviamo invece nella prossima puntata sempre con lo speciale amministrative grazie per l'attenzione grazie